Cari ascoltatori, mi chiamo Thomas, vivo a Stoccarda e quasi esattamente da un anno prendo le lezioni dalla Francesca in italiano. Ogni settimana facciamo le vocaboli, lavoriamo sulla grammatica italiana e abbiamo delle discussioni dell'italianità, della vita quotidiana e delle cose che succedono nel nostro paese e anche in Italia. La Francesca è un'insegnante molto impegnativa, simpaticissima e nel frattempo è quasi diventata un'amica della mia famiglia e una situazione molto molto bella. Posso solamente consigliare ad ognuno acquazia si livello della lingua di fare o e di godere dell'insegnamento della cara Francesca. Verehrte Zuhörer, mein Name ist Thomas, ich lebe in Stuttgart, nehme seit einem Jahr Unterricht in Italienisch via Skype bei Francesca. Francesca ist eine unglaublich sympathische und hoch engagierte Lehrerin, die auf jedem Sprachniveau tolle Sachen anzubieten hat, Vokabeln, Grammatik, Diskussionen bezüglich des täglichen Lebens, Gespräche über Lebenserfahrungen, aber auch über Italien, über Deutschland und die Geschehnisse in unserer Welt. Ich kann nur jedem empfehlen, bei ihr diesen tollen, super vorbereiteten und hoch engagiert durchgeführten Unterricht zu nehmen. Ciao!